I avvocati difensori della donna di 70 anni che nel gennaio del 2019 si costituì dopo aver tentato di soffocare il fratello di 10 anni più anziano che accudiva presenteranno ricorso alla sentenza che ha condannato l'anziana a 6 anni e 4 mesi di carcere per omicidio volontario aggravato oggi il lieto fine della telenovela, il sondrio calcio è finalmente nelle mani di Michele Rigamonti che dice ripartiamo dai giovani e dalla promozione ultimati richiami, tutti gli ultraottantenni della provincia che ne hanno fatto richiesta sono protetti dalla prossima settimana doppi turni nei 5 centri vaccinali mentre la situazione dei ricoveri a sondalo è in lento ma progressivo calo un'altra trovata dei ragazzi di chiamarsi boiler, dopo i meme e la boiler cup domani scatta l'attraversamento di tutti i 77 comuni di Valtellina e Valchiavenna in auto e con un boiler appresso, il tutto entro l'orario del coprifuoco Un saluto ai telespettatori di TSN, nuovo appuntamento con l'informazione del PGD Telesondrio News è stata condannata a 6 anni e 4 mesi per l'omicidio del fratello ma i legali di Anna Forni hanno annunciato che ricorreranno in appello l'episodio avvenne a Sondrio nel gennaio 2019 la sentenza di ieri del giudice Antonio De Rosa ha sollevato non poche perplessità la signora è vittima della situazione altamente tragica in cui si è trovata ed è vittima anche dal punto di vista processuale osservano i suoi difensori il suo è stato un gesto di estremo amore verso il fratello gravemente depresso dicono sentiamo Sara Baldini è stata condannata a 6 anni e 4 mesi in primo grado per l'omicidio del fratello un fratello di 10 anni più anziano di lei da tempo sofferente di una grave forma di depressione l'episodio è del gennaio 2019 la sentenza di ieri del giudice Antonio De Rosa ha sollevato non poche perplessità interno di uno degli alloggi protetti della fondazione Longoni dove Alberto Forni viveva la sorella Anna si era trasferita da Milano a Sondrio da un annetto proprio per vivere con lui, in casa con lui e accudirlo chissà cosa accadde quella notte il fratello aveva assunto parecchi farmaci, voleva farla finita e la sorella avrebbe tentato di soffocarlo con un lenzuolo e un sacchetto di plastica voleva far terminare le sue sofferenze e confessò poi ai carabinieri da cui andò a costituirsi la povera donna davvero difficile chiamarlo omicidio anzi, omicidio volontario aggravato gli avvocati Nicola e Paolo Marchi che difendono Anna Forni hanno già annunciato che faranno ricorso la signora Anna Forni in questa vicenda a nostro parere è una vittima nel senso che è vittima della situazione in cui si è trovata cioè una situazione di una tragicità davvero difficile da descrivere quella notte ha ammesso ai carabinieri di essere intervenuta nei confronti del fratello che era comunque agonizzante e ovviamente l'ha fatto per un atto di estremo amore nei suoi confronti che più volte più volte aveva tentato appunto di suicidarsi un gesto di estremo amore dunque da parte di una donna di una sorella disperata e che per i fratelli Marchi che la difendono sarebbe vittima anche dal punto di vista processuale proprio per le circostanze in cui il fatto si è verificato quindi l'estrema drammaticità e le ragioni familiari dell'intervento della signora Anna era necessario che il giudice che peraltro ha sicuramente tenuto conto di tutte le circostanze chieste dalla difesa nell'inflizione della pena da quel punto di vista del giudice prendiamo conto che il reato contestato prevedeva una pena che andava da 24 a 30 anni trattandosi dell'omicidio del fratello quindi il giudice sicuramente ha dato tutte le attenuanti ma avrebbe potuto fare anche un passo in più cioè verificare effettivamente se il rapporto causale tra l'azione della signora Anna Forni e la morte del fratello ci fosse effettivamente o meno e a parere della difesa mia e di mio fratello questo passo in più non è stato fatto e queste saranno le ragioni fondanti dell'appello andava proprio verificato anche a luce delle perizie sia del pubblico ministero che soprattutto della difesa del dottor Maurizio Robustelli della Cuna che accertavano sostanzialmente che il signor Alberto sarebbe comunque morto per l'ingenzione dei farmaci l'assenza del rapporto causale cioè che in realtà l'azione della signora Anna Forni non aveva in nessun modo inciso sulla morte del fratello che si sarebbe comunque verificata Come ha reagito la signora alla notizia della condanna? Allora la signora è molto provata per tutta la vicenda ovviamente e anche per il processo perché comunque teniamo conto che se questa sentenza venisse confermata dovrebbe, gli si aprirebbero le porte del carcere pur avendo un preso offerto però il rischio di finire in carcere c'è sicuramente questo quindi sommato alla vicenda che la compagna che tutte le volte la povera signora deve rivivere chiaramente la prova molto sotto tutti i punti di vista È stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nel bacino della diga di Sernio nel tiranese il corpo senza vita di un ragazzo di soli 16 anni le indagini sono affidate ai carabinieri del comando di Sondrio vediamo Un epilogo, il peggiore, quello che nessuno avrebbe voluto trovarsi di fronte dopo quella chiamata di soccorso scattata a pochi minuti dopo le 17.30 che parlava del rinvenimento del corpo di un giovane poco più che il ragazzino ritrovato senza vita nel bacino della diga di Sernio nel tiranese lui frequentava la classe terza del liceo scientifico Pinchetti di Tirano era un ragazzo molto intelligente, partecipativo, era brillante è un pezzo di noi che se ne va così lo ricorda la preside dell'istituto incredula così come i familiari del giovane, gli amici, i tanti amici a rinvenire il corpo del sedicenne nella serata di ieri un militare dell'arma che si trovava a passare per caso lungo il sentiero Valtellina ma quel che lascia sconvolti è il contrasto tra la vitalità la brillantezza di un adolescente con i suoi sogni il suo quotidiano comune a tanti suoi coetanei ed una fine così improvvisa, tagliente, dura da accettare ed è su questo che indagano i carabinieri un membro della nostra famiglia ci ha lasciati dice Fabio Molinari, dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Sondrio in un videomessaggio diffuso quest'oggi con profonda tristezza devo ancora una volta sentire la vicenda tragica di un nostro studente di un ragazzo della grande famiglia della scuola della Valtellina che purtroppo ha perso la vita raccomando ai compagni, ai docenti, alla scuola di essere vicini alla famiglia di questo giovane ora ma soprattutto più avanti quando la solitudine, la tristezza e il senso della mancanza si farà sentire con maggiore forza allora dovrete esserci per sostenere, per aiutare, per incoraggiare o anche solo per ascoltare Dal 22 aprile a Livigno non si registrano più nuovi casi di positività al coronavirus una buona notizia soprattutto in vista del Green Pass che dal 15 maggio permetterà ai turisti di riprendere ed invadere la località pronta ad accoglierli in assetto covid free sul fronte covid buone notizie anche per gli ultraottantenni i residenti in provincia che si sono registrati hanno tutti ricevuto anche la seconda dose di vaccino in calo anche il numero dei pazienti ricoverati al Morelli di Sondalo sentiamo Dal 22 aprile a Livigno non si registrano più nuovi casi di positività al coronavirus dopo settimane e soprattutto durante la seconda ondata in cui il paese si è trovato a fare i conti con focolai molto estesi intere famiglie in quarantena finalmente una buona notizia soprattutto in vista del Green Pass che dal 15 maggio permetterà ai turisti di riprendere ad invadere il cosiddetto piccolo Tibet pronto ad accoglierli in assetto covid free tutti gli ultraottantenni della località così come quelli del resto della provincia che si sono prenotati hanno ormai ricevuto entrambe le dosi di vaccino e possono considerarsi protetti devono continuare però ad adottare le misure di sicurezza poiché pur non sviluppando la malattia potrebbero contrarre il virus e disfonderlo mettendo in pericolo altre persone di settimana in settimana la macchina ormai sempre più oliata della campagna vaccinale massiva in provincia raggiunge numeri sempre più considerevoli la settimana ancora in corso che si concluderà domenica sono ulteriormente aumentate le somministrazioni di prime dosi di vaccino le categorie coinvolte in questa fase per un totale di circa 9.000 che però complessivamente considerando anche i richiami arriva a 10.000 a partire da lunedì prossimo quando inizierà la quinta settimana della campagna massiva la contemporaneità tra prime e seconde dosi richiederà una nuova organizzazione da parte di IASST e ATS della Montagna per rispettare tutte le prenotazioni circa 15.000 in 7 giorni con una media di oltre 2.000 al giorno i centri vaccinali di Sondalo Sondrio, Morbegno e Chiavenna e quali sia giunto Villa di Tirano saranno dunque organizzati su due turni con il doppio degli operatori sinora coinvolti dalle 8 alle 14 saranno effettuate le somministrazioni di prime dosi dalle 14 in poi toccherà i richiami le chip sono formate da medici ospedalieri e dei presidi territoriali da infermieri e impiegati amministrativi dipendenti di ASST con alcuni medici di base attualmente le prenotazioni per la campagna vaccinale massiva sono aperte per gli ultra sessantenni i soggetti estremamente vulnerabili i portatori di disabilità grave le persone di età compresa tra i 59 e i 16 anni con esenzione per patologia gli operatori sanitari chiunque appartenga a una di queste categorie può prenotarsi in qualsiasi momento anche chi non l'ha fatto nelle precedenti settimane dal lunedì 12 toccherà ai cittadini nati tra il 1962 e il 1971 quanto alla situazione dei malati ricoverati al Morelli ospedale Covid-19 di Sondolo rispetto al lunedì scorso si è passati dagli 84 ai 73 ricoverati di cui 9 in terapia intensiva il saldo tra dimissioni e nuovi ricoveri è positivo 18 a 13 lo scorso fine settimana non si erano registrati decessi mentre dal lunedì scorso sono stati 6 3 uomini e 3 donne notizie meno tranquillizzanti dal report di oggi venerdì 7 maggio di ATS della Montagna che per Valtellina e Valchiavenna parla di 59 nuovi casi di positivi dei quali 1 in casa di riposo e di 3 decessi oggi il numero dei guariti 29 è decisamente inferiore a quello dei nuovi positivi dato questo che ricalca con le debite e proporzioni ciò che sta avvenendo nel resto d'Italia l'accordo di massima tra Oriano Mostacchi e Michele Rigamonti per il passaggio di proprietà del Sondrio Calcio è del 12 febbraio da quel giorno ad oggi vecchie e nuova società hanno lavorato per definire i dettagli oggi il lieto fine la squadra sondese ripartirà dai giovani e dalla promozione il servizio è di Paolo Croce il dado è tratto o meglio ora ci sono le firme il Sondrio Calcio dopo l'estate di sofferenza che ha portato alla mancata iscrizione era lunedì 19 aprile vi davamo in anteprima le ultimissime per quanto riguarda il Sondrio Calcio la nuova società il passaggio da Mostacchi alla nuova proprietà di Michele Rigamonti oggi ci sono state le ultime firme formali gli ultimi particolari siamo entrati nel vivo di quello che sarà la nuova realtà sportiva del capoluogo il nuovo Sondrio Calcio eh sì è un'emozione non pensavo neanche io però avendo fatto una notte in bianco penso che sia un'emozione comunque sì è bello essere qui in questo campo sportivo oggi dopo mesi e mesi di lavoro grazie appunto anche al precedente presidente Mostacchi che ha portato oggi il Sondrio dopo 28 anni è un'emozione forte adesso inizia il lavoro vero non sarà un lavoro comunque sia facile però ci sono tutti i presupposti l'entusiasmo per portare avanti questa società e farla crescere sempre di più hai parlato di un progetto che sarà incentrato soprattutto su giovani e giovani valtellinesi sì assolutamente io continuo a insistere io arrivo da un'educazione salesiana dunque da Don Bosco che ha sempre lavorato con i giovani dunque per me il progetto giovani è la cosa più importante in assoluto io vorrei avere un Sondrio Calcio che parte proprio dai settori giovanili che arrivi nella prima squadra con quello che si è creato dai settori giovanili ma è una giornata importante perché finalmente è ufficiale la ripartenza del calcio in città del calcio Sondrio ovviamente i primi meriti vanno dati a chi ovviamente si è impegnato in prima persona i due veri protagonisti di questa vicenda che sono stati Michele Rigamonti che oggi è presidente ma anche l'ex presidente Mostacchi i quali entrambi hanno comunque in questi mesi lavorato per rendere possibile questo passaggio che era quello che noi come amministrazione auspicavamo perché ci permette di partire non proprio da zero ma già con delle basi solide nella speranza come abbiamo sempre dichiarato che soprattutto lo sport e il calcio possa riprendere in primis per i nostri ragazzi e per il settore giovanile e poi ovviamente che anche la prima squadra possa rincominciare a tornare chiedo scusa possa tornare a darci delle belle soddisfazioni ogni domenica stiamo per uscire pare da un momento difficile sia a livello di società che di sport noi siamo felici contenti che si possa provare che sia arrivato qualcuno che abbia voglia di far ripartire la società seguiremo Michele perché comunque lo conosciamo come persona sappiamo che dove è intervenuto anche in altri sport ha sempre fatto bene dalla regione dalla FGC mi hanno proposto una promozione io l'ho accettata anche perché non è semplice partire da una promozione adesso da questo punto da cui partiamo però mi sembra giusto che una piazza come Sondrio debba partire da una promozione tornano sabato 15 e domenica 16 maggio le giornate fai di primavera nella nostra provincia Sondrio e Castello dell'Acqua saranno teatro della manifestazione fino all'ultimo l'incertezza legata alla situazione pandemica ha contraddistinto l'organizzazione dell'evento Simone Belletti è il primo grande evento a livello nazionale dedicato ad arte e cultura organizzato dopo l'ultimo periodo di lockdown le giornate fai di primavera tornano sabato 15 e domenica 16 maggio nella nostra provincia Sondrio e Castello dell'Acqua saranno teatro della manifestazione dopo una lunga stinenza forzata questa edizione proverà a restituire ai cittadini speranza e fiducia nel futuro riavvicinandole ai beni storici naturalistici e artistici la proposta che il fai fa alla città di Sondrio è molto interessante perché ci consente di valorizzare sia il teatro sociale di Sondrio il ridotto del teatro la sala Celestino Pedretti e sia ci consente anche di valorizzare il sentiero naturalistico che da Sondrio si snoda fino ad arrivare al santuario della Sassella l'ulteriore proposta per Sondrio è anche la valorizzazione quindi la scoperta della chiesa di San Bartolomeo con l'occasione cercheremo di mostrarvi alcune delle peculiarità del nostro territorio qualcuna già abbastanza nota tipo la cucina Cavallari che volutamente è il manifesto indicata come cucina Giovanni Ferre in onore dell'ultimo fabbro che ha mantenuto e ha levato una famiglia lavorandoci e il mulino e la pira di Calalberg la bella novità che ci fa molto piacere è anche il poter mostrare la torre dell'acqua il resto dell'antico castello dell'acqua fino all'ultimo l'incertezza legata alla situazione pandemica ha contraddistinto l'organizzazione della manifestazione avevamo il 50 e 50 di appunto possibilità per capire se avremmo potuto svolgere le nostre giornate oppure se le avremmo dovute rimandare come è successo l'anno scorso di certo non è mancato l'entusiasmo la voglia di tornare a uscire visitare i luoghi della cultura e dell'ambiente dei nostri territori sicuramente è tanta da parte nostra ma anche da parte di chi arriverà a trovarci il 15 e il 16 maggio un programma limitato è volto a dare risalto ai luoghi aperti ogni visita avverrà nel rispetto delle normative anti-covid vigenti avrà delle caratteristiche un po' diverse più che altro un po' perché sarà molto all'aperto e anche perché quest'anno come delegazione di Sondrio non avremo gli apprendisti ciceroni che di solito sono la caratteristica di queste giornate perché non è stato possibile per noi del FAI entrare nelle scuole e non è stato possibile agli alunni agli studenti uscire dalle scuole per fare dei sopralluoghi un'occasione unica per conoscere l'inestimabile patrimonio culturale della nostra provincia mai come quest'anno le giornate del FAI puntano sulla natura al convegno nazionale FAI che si è concluso nel mese di marzo sono giunte delle linee guida un po' diverse cioè è cambiata la visione culturale della fondazione che ha centrato la sua attenzione soprattutto sull'ambiente si chiama Sottosopra ed è il progetto giunto al suo secondo anno di attività teso alla valorizzazione delle terre e ad uno sviluppo lavorativo rivolto anche alle persone svantaggiate ne parliamo nel prossimo servizio un progetto nato con la finalità di dare il giusto rilievo al sistema ecologico della nostra provincia finanziato dal bando Coltivare Valore di Fondazione Cariplo edizione 2018 e dal vertice del quale sta il Consorzio di Cooperative Sociali Solco Sondrio una realtà che aggrega al suo interno ben 13 differenti gruppi cooperativi tra co-op sociali di tipo A e di tipo B parliamo di Sottosopra coprodurre da valle alle terre alte è un territorio che si caratterizza per la sua dimensione di verticalità il sottotitolo coprodurre da valle alle terre alte ci richiama a un discorso di coltivazione di agricoltura che in qualche modo si sviluppa in termini verticali dai 200 metri sul livello del mare della valle del territorio come dire in pienura fino ad oltre i mille metri di altitudine il progetto come dicevo poc'anzi è caratterizzato da un partenariato composto da 6 soggetti e da una rete composta da 23 soggetti i soggetti partner sono 4 cooperative sociali di tipo B aderenti al consorzio solto Sondrio cooperativa il Gabbiano cooperativa il Sentiero cooperativa il Treccio cooperativa la Quercia e dall'associazione di promozione sociale c'è una valle due gli obiettivi principali del progetto il recupero di terreni incolti lungo la provincia di Sondrio per un'area complessiva di 7 ettari e poi la creazione di nuove opportunità lavorative destinate a persone svantaggiate il tutto lungo l'ambito territoriale dei 5 mandamenti Chiavenna Morbegno Sondrio Tirano e Bormio Si passa dalle pubbliche amministrazioni dagli enti pubblici comuni comunità montane agli enti del terzo settore a un'organizzazione che è un istituto universitario a diverse anche aziende private quindi è un partenariato variegato importante anche per un contesto come il nostro Più di 20 terreni coltivati pari ad oltre 7 ettari di superficie recuperata sui quali si sviluppano produzioni agricole diversificate con reimpianti di specie antiche e autoctone 8 gli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate 7 i tirocini abilitati e poi l'attivazione di 5 percorsi formativi un ottimo bilancio per il secondo anniversario di operatività del progetto il tutto cercando di andare avanti in questa logica di impresa a rete che si intensifici sempre di più diventi stabile e incroci il proprio operato anche con il mondo delle altre organizzazioni del territorio da Madesimo a Livigno attraversando con tanto di sosta tutti e 77 i comuni della provincia loro sono i ragazzi di chiamarsi Boiler e questa è la loro singolare iniziativa ci hanno abituato ad uno sguardo sagace sulla provincia iniziative lanciate online anche quando i giorni più grigi della pandemia ci tenevano relegati in casa e poi tante tantissime vignette pubblicate su una pagina facebook che raccoglie sempre più iscritti a proposito si dice in Svizzera o in Isvizzera dallo studente innamorato dei camion man lasciatecelo dire una perla scoperta da noi durante il nostro servizio fino al Brescia ministro alla Polenta e poi il premio Pustache insieme a tante altre trovate loro sono i ragazzi di Chiamarsi Boiler un gruppo di amici che nel 2017 cominciano a pubblicare su una pagina facebook tanti meme riguardanti gli argomenti attinenti all'esistenza del valtellinese medio domani sabato 8 maggio proprio loro saranno impegnati nel Roll to Boiler Cup un'altra delle loro iniziative epocali di che cosa si tratti ce lo facciamo raccontare proprio da loro partiremo da Madesimo e con delle macchine fornite da autovittani e l'idea è di far tutti i 77 comuni entro il tempo di coprifuoco quindi sono 500 chilometri più o meno tutti su strade della valle col classico biroch che ti trovi in mezzo alla strada 40 all'ora e altre cose molto divertenti e niente cerchiamo di passare in tutti questi in tutti i comuni della provincia e di arrivare a Livigno entro le 9 9 e mezza in modo poi da riuscire a uscire dalla dogana prima del coprifuoco in ognuno dei 77 paesi attraversati due minuti di stop per poter scattare una foto con tanto di boiler è nata per riuscire finalmente a premiare Talamona che è stata la vincitrice della scorsa boiler cup del 2020 che ha dovuto aspettare un anno per la prima azione per via del covid e siccome adesso siamo aperti la zona gialla ci consente di spostarci liberamente allora abbiamo deciso di fare una cosa in grande stile e quindi l'idea è di che ogni comune sia partecipe e quindi che sia tutta la Valtellina tutta la provincia di Sondra a premiare la vincitrice della competizione boiler cup competizione che oramai da qualche anno premia grazie a votazioni online la cittadina più meritevole più simpatica della provincia il premio naturalmente un boiler che viene consegnato durante la serata finale del concorso gli spunti alla fine li troviamo c'è sempre un qualche soggetto un po' più colorato o un qualche avvenimento che ci serve da spunto per portare avanti la nostra pagina siamo pronti per lanciare nuove proposte e far divertire tutti con questa competizione campanilistica perché l'importante è essere autoironici in questo caso parlando di autoironia uno dei post che ha preso più like diciamo recentemente è una caldaia a legna pensate pare che sia di moda o in voga nelle baite quindi la gente ha deciso che fosse addirittura più bello di un post di Keraferragni ci ha dato tanta visibilità erano tutti veramente contenti di vedere questo strumento di alta ingegneria le informazioni per poter seguire la carovana di Rotto Boiler Cup le trovate sulle pagine social del gruppo il soggetto più colorato è fragile è un po' la montagna si chiamano i concerti della domenica sono cinque è il primo quello di domenica 9 maggio segna anche il ritorno della stagione degli amici della musica al teatro sociale del capoluogo a illustrarci questa breve ma intensa edizione che inizia quando solitamente finiva la normale stagione il direttore artistico e direttore fondatore dell'orchestra Vivaldi il morbegnese maestro Lorenzo Passerini sentiamo eravamo sul palco il 23 gennaio 2020 e il prefetto per ordini ministeriali chiaramente ha deciso la sospensione dell'evento con l'orchestra sul palco alla prova generale quindi chissà come dire tornare nel nostro teatro nella nostra acustica è per noi un'emozione ma credo che sarà anche un'emozione per il pubblico l'appuntamento attesissimo sta per arrivare le porte del teatro sociale di Sondrio si apriranno domenica e la musica riprenderà a vivere non che sia mai morta ma dal vivo beh dal vivo si vive di più via dunque alle 17 di domenica per un viaggio concentrato nella musica dal 600 ai giorni nostri un viaggio in cinque tappe che di fatto consente di non lasciare una casella vuota alla voce stagione 58 degli amici della musica di Sondalo e poco importa che inizia a maggio inoltrato più o meno quando le stagioni precedenti andavano a finire certamente buonasera Sara questa è una stagione breve di cinque concerti che partirà appunto domenica questa con un concerto barocco su musiche di Telemann Vivaldi Bach è un tripudio di colori del 6 e 700 seguirà poi un concerto con due grandi sinfonie dell'800 la quarta sinfonia di Beethoven e una sinfonia che non è mai stata eseguita all'interno della stagione degli amici della musica di Sondalo che è la sinfonia di Luigi Cherubini il 2 giugno unica eccezione non domenicale largo a Viva Verdi un omaggio alla nostra nazione attraverso la musica del suo esponente più famoso nel mondo dall'inizio alla fine della sua lunghissima carriera con una carrellata di sinfonie preludi ballabili e sorprese Azzardo è il brano per clarinetto basso orchestra su motivi del trovatore in prima esecuzione assoluta arrangiato da Marco Sala che sarà anche il funambolico solista ci sarà poi il debutto dell'orchestra Viva Verdi Live in una sinfonia di Mahler e si chiude il 4 di luglio con il Requiem di Mozart che vuole in un qualche modo essere anche un momento di riflessione che spera di chiudere questo lungo periodo di silenzio sono 480 giorni che l'orchestra non si esibisce al teatro sociale di Sondrio Altra particolarità di questa stagione che è piccola soltanto per numero di proposte è che tutte queste proposte parte quella del 2 giugno saranno sempre la domenica pomeriggio Sì noi abbiamo scelto di fare questa stagione nei giorni di festa e abbiamo scelto anche la domenica che è forse l'unico giorno della settimana che ci concede di fare i concerti alle ore 17 questo per le famiglie per il nuovo pubblico ma naturalmente anche per il coprifuoco di questo periodo così che sarà facile poter rientrare nelle varie abitazioni Lorenzo Passerini direttore artistico della stagione degli amici della musica e fondatore dell'orchestra Vivaldi che quest'anno è la protagonista assoluta della stagione degli amici della musica quali saranno le curiosità le novità legate appunto anche all'orchestra Vivaldi ci sarà una novità che è una novità giovanissima che è una ragazza di 15 anni che abbiamo scoperto noi durante questo lockdown dove appunto abbiamo sperimentato abbiamo trovato una voce bianca proveniente dal coro di voce bianca della città di Torino che si cimenterà nella quarta sinfonia di Mahler che Mahler scrive proprio per un bambino sono in pochi che hanno la possibilità di farla lei è una ragazzina straordinaria quindi sentirete forse qualcosa che non avrete mai sentito poi è anche la stagione di Nello Colombo che è il nostro amico giornalista che tutti voi conoscete come Penna ma magari non conoscete come compositore ha scritto un brano apposta per noi apposta per l'orchestra Vivaldi nel suo stile e quindi ci sarà anche una prima assoluta di un cittadino di Sondro e le novità non sono finite due direttori ospiti di questa stagione che sono i maestri Ernesto Colombo e Leonardo Benini che divideranno con me i cinque concerti di questa breve ma intensa stagione l'emozione superfluo forse sottolinearlo è in crescendo il bello della musica è che viene proposta nell'istante quindi la musica la si gode proprio nel momento nel quale si fa quindi ogni volta è sempre un qualcosa di nuovo un qualcosa di diverso poche settimane fa ho diretto la Cenerentola di Rossini alla Spalmas che in un qualche modo potete vedere alle mie spalle questi schermi è stato fantastico perché non dirigevo davanti al pubblico da diversi mesi e ho diretto anche qualche concerto in streaming durante questo periodo ma non credo molto in questa forma d'arte perché la musica va vissuta va condivisa la musica senza un pubblico non ha forse è priva della sua essenza Non è stato un anno facile per i nostri bambini e ragazzi la scuola durante la pandemia ha fatto quello che ha potuto in una situazione di emergenza e anche l'attività motoria è passata in secondo piano fra i primi a ripartire ci sono l'Alecco Calcio e l'Ardenno Buglio che propongono il City Camp 2021 con i responsabili del settore giovanile che ci ricordano il forte legame tra la bassa Valtellina e l'Ecco e proprio domenica in Serie C ha debuttato il portiere Luca Bonadeo classe 2003 grande promessa del calcio valtellinese ce ne parla Paolo Croce Il calcio d'estate ha fretta di ripartire e di ridare ai bambini questa preziosa valvola di sfogo la 14 giugno in collaborazione con l'Ardenno Buglio si svolgerà infatti il camp estivo dell'Alecco Calcio l'iniziativa riservata a bambini e bambine nati e nate dal 2008 al 2015 Paolo Baroli responsabile del settore giovanile dell'Ardenno Buglio quest'anno è il primo anno per cui dal 14 di giugno al 18 giugno tutti i giorni ad Ardenno presso il centro sportivo di Ardenno che è in festivo che quest'anno abbiamo il piacere di avere l'Ecco per cui allenatori professionisti allenatori con patentino laureati in scienze motorie patentino UFA B UFA C la collaborazione con voi come nasce? ma siamo partiti dall'anno scorso allora noi come società Ardenno abbiamo voglia di crescere e per crescere abbiamo deciso di affiliarci all'Ecco perché l'Ecco perché l'Ecco è sempre stata la prima società la più vicina alla provincia di Sondrio ha storicamente comunque ricordiamo l'Ecco ha giocato anche in Serie A ci sono stati tanti giocatori della provincia di Sondrio che sono passati dall'Ecco Andrea Lafranconi responsabile del settore giovanile attività di base della Calcio-Ecco guarda con fiducia la collaborazione con l'Ardenno Calcio e con la Valtellina Tutta quest'anno siamo partiti con questo nuovo e importantissimo progetto che è appunto il progetto delle Academy della società figliate abbiamo trovato una interessante disponibilità nella società dell'Ardenno grazie al Presidente Massimiliano e al responsabile Paolo e da subito è nata questa collaborazione che si è rilevata interessante per comunque addentrarsi in un territorio che è sia distante che vicino da noi perché comunque è fuori provincia ma risulta vicino alla provincia lecchiese quindi abbiamo iniziato questa collaborazione che purtroppo non si è sviluppata a 360 gradi come si voleva per via del Covid che purtroppo ha limitato le attività in campo abbiamo per adesso sviluppato delle attività online con la formazione di tecnici quindi l'aiuto a loro nella condivisione di allenamento e di proposte di attività in campo perché i ragazzi purtroppo hanno dovuto vivere un'altra stagione lontano dal campo e dal calcio giocato per questo è nata anche l'idea del camp estivo quindi con la nostra collaborazione un legame molto forte quello che unisce la bassa valtellina alla calcio lecco come spiega Francesco Rota responsabile scouting è un legame molto forte soprattutto già storicamente già storicamente dal punto di vista di tifosi dal punto di vista agli atleti soprattutto questa estate con l'arrivo del direttore Fracchiola che ha iniziato un progetto di valorizzazione del territorio territorio limitrofo abbiamo aumentato questo anzi rinforzato questo legame col territorio con la valtellina abbiamo tanti giocatori nel settore giovanile che provengono da questo territorio e vorrei fare spendere delle parole perché domenica con l'Albino Leffe ha debuttato un 2003 che è Luca Bonadeo che è cresciuto nel Sondrio di questa zona e quindi è un valore aggiunto noi speriamo che la sua la sua carriera sia Florida e quindi siamo molto contenti della crescita che ha fatto fino ad oggi deve sempre migliorare però questo è un grande un grande diciamo un grande valore aggiunto per questo territorio ripeto noi abbiamo tanti giocatori che arrivano dalla valtellina e crediamo in questo progetto crediamo nella collaborazione nella filiazione con l'Ardenno Buglio e quindi vi aspettiamo numerosi al nostro camp estivo e questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale appuntamento alle prossime edizioni del Tg e del settimanale di Telesondrio News buon fine settimana grazie a tutti